Il corteo del giorno 2010 si ispira al mito descritto da Ovidio nelle metamorfosi di Pomona, Dea della Frutta e Vertumno, dio del mutamento di stagione, che dopo un lungo corteggiamento e varie trasformazioni sarà l'unico a riuscire ad amarla. La loro unione sarà trionfare sul freddo inverno la primavera, stagione di rinascita. Nel quadro proposto, il dio, che nella versione popolare di parte de sopra diventa cucchero, dopo l'estate in cui si era mutato il robusto mietitore, in autunno prende l'aspetto di vendemmiatore per conquistare il cuore dell'amato. Così il cuore de Pomona resta ostile, ma l'umile aspetto del contadino cela il potere divino di un gran signore. Vertumno è un dio, il re del mutamento, il monno a lui si raccomanda quando che i fiori hanno da diventare succo si frutti. E siccome può trasformarsi a suo piacere, con billanta altre facce, a lei già si è presentato, da un'intera vita egli l'ama. Più di tutti l'ama e nulla smove l'ostinato suo diniego. E ma non si dà aver vinto, mai si arrende. Lo dio vertumno sconfitto non è ancora. Tanto potente è il suo tocco di vino che lui muta le stagioni come vuole. Ecco che spegne il caldo sole estivo. Bruniti si fanno i toni della terra. Vermiglia vino scorga dalle bocche. Autunno è giunto. E con base a necchia, qui bus folia, turier un sale mentre i cani spavigliano di case. Questo vino buono, vino, vino generoso, e il vino curiale provo un animoso. E vertumno si tramuta in vignaiolo. Sfronda le viti cariche dei generosi grappoli. Bramoso, in cor suo, di conquistare la gognata nympha. grazie. olp Smacka ecco ecco siamo grazie a tutti 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 grazie a tutti